6 marzo 2016, domenica mattina, porto i sacchetti della spazzatura, tintinna il vetro, tonfa sordo l'umido, un saluto al pincetto è doveroso, sta con piantine germana alla chiesa e darsi agli occhi cerchietti d'inferno come chi abbia infilato troppe crune. Chiedo ed ottengo un cappuccino buono, il bambino, Gioele, è ancora muto. Forse ha pocciato troppo, dice lui, fino a due anni e mezzo, lei precisa. Di nuovo lui, io manca adesso ho smesso. Io manca adesso ho smesso il bambino. Profiterai, Gioele, verrà il giorno, una mano grandissima è il disegno. Mettiti la cintura, Lazzarone.